Carizia Pronti, recto Nunzio, quattro Resto Quattro Attenzione, e onde? Quattro Du 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 2 3 6 7 7 8 8 8 9 1 3 4 4 4 1 2 avanti avanti 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 Sì 3 4 5 5 6 6 8 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16